Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentornati camarate, bentornati comunisti dall'Eccelso in questo nuovissimo videace, videace mi sembra incredibile commentare un 4-1, mi sembra incredibile commentare 4 gol, mi sembra incredibile commentare questa prestazione, questo risultato dopo il primo tempo visto e secondo me siamo agli estremi, ovvero tra uno dei peggiori primi tempi della stagione dove veramente non è andato nulla, con l'infortunio di Luvub, c'è veramente un insieme di merda totale su tutto e adesso ne parliamo su formazione fatta e quant'altro, ad un secondo tempo che secondo me è il migliore col primo tempo fatto contro il Modena, parliamo di inizio stagione, quindi forse ogni 6 mesi riusciamo a cavare fuori un primo tempo, cioè un primo o un secondo tempo, un 45 minuti comunque fatti bene, sono veramente contento perché era inaspettato, inaspettato però questo ci dice tante cose, ci dice che io, al di là di quello che si possa dire in conferenza stampa, che Azzi non viene fatto giocare ma gli altri hanno imparato meglio i meccanismi, e chi è che ha imparato meglio i meccanismi? Barreca? È Barreca che ha imparato meglio i meccanismi? No, giusto per capire, per avere un po' di chiarezza ambientale, io lo sapete come la penso su Barreca, che per me la prima persona che voglio incontrare io nella mia vita è l'agente di Barreca e farmi sponsorizzare in futuro nel mondo del lavoro dell'agente di Barreca, perché per me veramente, stiamo parlando di un professionista incredibile, l'agente di Barreca, cioè veramente totale, Barreca oggi oltre al gol che ha regalato lui con quel passaggio indecente, ci ha fatto 45 minuti dove ha sbagliato, andava tolto al ventesimo, anzi al primo minuto andava tolto, terribile, terribile, era capricciante, avevano sbagliati tutti, Mancoso era un morto, male veramente tutti, azi è entrato, ha devastato, l'altro che ha devastato è Nunzio Lella, cioè mio figlio Nunzio Lella ha fatto veramente entrato, oggi penso la migliore partita di Lella da quando è al Cagliari, ma veramente una partita di corsa, dinamismo, tecnica, ha fatto una partita di tecnica, poi ha provato anche la rovesciata, cioè lì ha gasato, lì ha gasato e mi ha detto, ma veramente grande prestazione, come dicevamo in chat, come dicevamo in chat, il rabbiottismo di Nunzionella, Nunzionella è un po' rabbiò, glielo devo dire, Nunzio sei un po' un adri rabbiò dei poveri, bisogna qua procedere al rinnovo di contratto sulle cifre di rabbiò, assolutamente, quindi voglio dire, sono contento, il secondo tempo è stato eccellente per la produzione di gioco, per i rischi che abbiamo corso, ovvero zero, poi lo dicevo in live, bisogna anche parlare di Unascoli che ci ha regalato diversi gol, che probabilmente non fosse arrivato quel rigore, staremmo parlando di un Cagliari che magari era entrato con un atteggiamento giusto, ma strappava magari solo un pareggio, quindi diciamo, sono state delle variabili che sicuramente hanno condizionato in modo positivo la situazione della partita e quant'altro, però voglio dire, fanno parte del calcio, io me le prendo volentieri, e il risultato è poi meritato per quello che è stato il secondo tempo, anche se il primo poteva finire tranquillamente 2-0 con quel colpo di testa di Botteguin. L'intuizione clamorosa del secondo tempo è quella fascia sinistra, Lella Azzi mancoso, perché? Perché mancoso? Perché era un 4-3-1-2 fondamentalmente, da ciò che ho capito, ma anche no, cioè era un Azzi, Andrea la smetti? Eh, che cavo. Era un Azzi che sostanzialmente, no scusate, mancoso, in fase offensiva diventava trequartista centralmente pronto a ricevere da destra e da sinistra, mentre in, e quindi c'era Nunziorella che faceva delle progressioni clamorose, andava sulla fascia, si apriva, allungava, faceva, cadeva, provava scipire, robe incredibili. Poi arrivava Azzi come un terreno, boom, arrivava altro che Barreca, cross di prima in mezzo, e il cross, e qua abbiamo anche un altro progresso di un giocatore, che è arrivato e con il sinistro non sapeva fare nulla, oggi ha messo due cross col bancino, in uno ha causato poi il rigore su Mancoso, che nel secondo tempo sembrava Lazzaro, figa il risveglio di Lazzaro, la resurrezione, cioè da un giocatore che è morto, che cammina, ha fatto 90 minuti, gli ultimi 45 sembrava De Bruyne, fa due cross di prima di sinistro e vinciamo la partita. Cioè questo è un giocatore importante, Paolo Azzi, questo è un giocatore che oggi ha dimostrato di essere importante, così come Nunziorella, così come Nunziorella, contentissimo per il gol di Zappa, veramente veramente contento, lo sapete, l'ho sempre difeso, è un gol comunque importante per il morale, lasciate perdere che la partita probabilmente era già chiusa sul 3-1, anzi sicuramente lasciate perdere che è un gol veramente per il morale, perché anche come viene fuori, non è che dici un euro goal o cose, però è un gol importante per lui, per la sua voglia di giocare in questa squadra, e per sperare veramente di vedere un finale di stagione importante. Ora, le cose che ho detto a fine primo tempo le penso tuttora, vediamo se Ragneri sarà in grado di rimettere la squadra e capire cosa ha funzionato in questo secondo tempo, io l'ho capito? Nì, cioè il problema sono sicuramente gli interpreti, il discorso che facevo a fine primo tempo, la colpa di Ragneri? No, la colpa di una società che ha fatto un ammasso di giocatori, una cozzaglia vergognosa e Ragneri si ritrova a gestire una rosa che comunque non ha voluto lui, che comunque ha 10.000 problematiche e quant'altro. Ok, questo è chiarissimo, bene. Ora, dobbiamo smettere di fare video, dobbiamo smettere di parlare di Cagliari? Direi di no, ne continuiamo a parlare. Continuandone a parlare, io mi permetto di parlare di cosa ha sbagliato Ragneri, di cosa può migliorare Ragneri. E ha fatto, Ragneri oggi, secondo me, ha risolto anche lui la partita, però avendola sbagliata clamorosamente il primo tempo. Cioè, se tu entri con Barreca in campo, con Barreca in campo, parti uomini meno. Parti uomini meno, anzi, forse giocare uomini meno sarebbe stato meglio, perché il primo gol viene veramente da un passaggio, ma come fai a fare un errore tecnico del genere? Un passaggio così moscio, cioè è clamoroso, veramente clamoroso. E quindi, l'errore lì è importante, è un allenatore bravo, intelligente, se ne è accorto, e poi comunque, nella sfortuna dell'infortuna di Luvumbo, che era uno dei più attivi, entra Lella, che fa una partita, secondo me, clamorosa. Ripeto, quella fascia di sinistra, Lella, Azzi, Mancosu, che ha fatto un secondo tempo da Lazzaro, e la Padula, il prezzo non mi è piaciuto purtroppo, ma hanno loro deciso la partita, allora ha deciso la partita, ora ci saranno le retoriche populistiche su Nandes e quant'altro, Nandes ha fatto un secondo tempo lucido, ma finisce lì, cioè ha fatto un secondo tempo da centrocampista di squadra, che vuole stare nei playoff, fine, 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 è una vittoria importante ai fini del playoff, finisce qui, finisce qui, ora, basta l'esaltazione, la prossima partita, andiamo su, ops, andiamo subito a vedere, contro, contro chi è, però, ripeto, vediamo, la prossima forse con il Pisa, 18-3, sì, ah no, Regina, no, scusa, che cazzo stavo leggendo, Regina, Regina Cagliari, la prossima è con la Regina, partita importante, ecco, questa è più importante di quella con il Genoa, questa è veramente importante, andare magari, a Reggio, Calabria, e fare, e fare una prestazione di livello, di quantità, di punti portati a casa importanti, quella potrebbe essere veramente importante, oggi è una bella serata, anzi, scusate, correggo, bei 45 minuti, ottimi, bellissimi, ogni tanto ci vogliono, adesso andiamo e diamo continuità a questi 45, e facciamoli diventare almeno 90, almeno 90, non ne chiedo di più, facciamo almeno un altro tempo così fatto, a Reggio, poi vediamo cosa ci dirà il campo, ok? Un bacione, ciao a tutti.